Ciao, ciao a tutte e a tutti. Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare, potervelo dire a voce. Non posso, purtroppo, fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci tanto intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Io ovviamente non voglio allarmarvi, però è giusto che io per stare meglio al più presto faccia un intervento. L'ospedale mi ha programmato un'operazione tra pochi giorni e ovviamente dopo questa operazione dovrò stare un po' a riposo, per poi però, lo giuro, tornare più forte di prima settembre. Quindi spero capiate e mandatemi le vostre good vibes. Vi abbraccio forte!